appassionati di magic the gathering buonasera bentrovati vedo che state chiacchierando col gatto in maniera molto attiva bene mi fa piacere vuol dire che vi fa compagnia buonasera franciccio buonasera subutai buonasera l'improbabile anche a te come va ragazzi buonasera sky nightmare che bello ci siete tutti buonasera a tutti questa sera faremo le cose proprio con calma buonasera signor gufo ehi la che bello che sei riuscito a venire sono contento allora stasera facciamo una cosa la cosa più antica del mondo ovvero la routine perché come potete vedere non ho non ho granché risorse accumulate non ho giocato molto questa settimana e quindi volevo approfittare per diciamo fare i vari step della mia routine e spiegarvela perché ricevo comunque spesso molte domande su ma come faccio a ottimizzare i gold insomma fanno un bel gruzzoretto grazie mille signor gufo grazie arigato arigato grazie mille per esserti abbonato carissimo sono molto onorato molto contento ti ringrazio mi hai emozionato adesso ho perso il filo ricominciamo questa sera parliamo di routine ovvero della mia routine per accumulare gold eccetera eccetera allora io generalmente faccio così vabbè chiaramente i gold li accumulate con le varie quest le quali queste le potete fare sia con le partite singole sia forse anche meglio con i constructed se avete chiaramente un mazzo constructed che valga la pena di utilizzare in un evento del genere perché chiaramente per rientrarci dovete almeno fare quattro vittorie quindi dovrebbe essere un mazzo abbastanza buono comunque vi fate il vostro bel gruzzoretto la cosa a cui dovete puntare o almeno quella che è la mia routine dovete puntare a fare un bel draft il draft quello normale il draft normale è infatti vi permette con 5000 gold di di draftare sia tutte le carte che ricavate all'interno dell'evento quindi quelle ve le tenete e sono comunque molto buone cioè è un modo per aumentare la collezione chiaramente in più è uno dei pochi eventi ad accesso anzi è l'unico evento ad accesso di gold che vi dà come premio le gem quindi diciamo che sostanzialmente è l'unico modo che avete per convertire il gold in gem quindi vi fate il vostro bel draft e continuate a farli senza particolari obiettivi cioè insomma lo fate per divertirvi e anche per ampliare la vostra collezione fino a quando non raggiungete le 1500 gemme attenzione vi sconsiglio di usare le gemme per fare il draft cioè in pratica non fate il mai la conversione inversa non è mai conveniente convertire le gemme in gold chiaramente se avete delle esigenze particolari per esempio l'altra volta in live ho utilizzato le gemme ma perché dovevo dovevo fare la live nel senso l'avevo programmata e quindi l'ho dovuta fare per un'esigenza mia però vi sconsiglio di accedere al draft con le gemme a questo punto appena avete 1500 gemme spostatevi immediatamente nel competitivo perché questo perché il draft normale ha una razio di vittorie premio inferiore rispetto a quella del draft competitivo perché il competitivo a fronte delle appunto famose 1500 gemme vi garantisce un bel gruzzoletto già dalle tre vittorie cioè dalle tre vittorie andate pari con la vittoria delle gemme e se riuscite a inforcarne 5 o 6 avete comunque un bel guadagno e se siete bravi chiaramente se avete dimestichezza con il metagame dell'espansione in questione è più probabile che riusciate ad andare quello che in gergo si dice go infinite ovvero vi giocate draft a ruota in loop praticamente continuando ad accumulare le gemme quello che poi farete con le gemme chiaramente quello è un altro discorso perché quando avrete accumulato parecchie gemme potete aprire pacchetti continuare a giocare insomma da un certo ammontare di gemme in poi insomma vi conviene chiaramente aprire pacchetti però ecco questa in generale è la mia routine ora vi leggo perché avete scritto un sacco adesso un discorso serio parlando da moderatore direi che sarebbe opportuno non esagerare con i consigli e suggerimenti ok il gioco deve andare veloce quindi ok grazie grazie della puntualizzazione sì in effetti è una cosa che ho notato nelle ultime live purtroppo tra virgolette nel senso che chiaramente più persone ci sono più chiaramente loro tendono a dare consigli in base al proprio stile di gioco il problema qual è il problema è che io imposto le live tutte le live di qualsiasi gioco faccia di qualsiasi serie io le imposto sempre in modo da leggere sempre quello che dite perché io ho una grande interazione con la chat proprio perché sono fatto così io ve lo dico chiaramente io sono qui su twitch per interagire con voi quindi altrimenti starei in camera mia a giocarmi i miei giochi con i miei amici e basta è una cosa che mi è venuta al naturale nel corso di questi mesi leggere la chat sempre il problema è che ultimamente chiaramente per fortuna sono felice di questo il canale ha sia un po ampliato e quindi è arrivata un po più di gente e durante la partita inizia ad essere complicato riuscire a leggere voi e concentrarmi sul gioco ma per un motivo molto banale perché il gioco ti incalza chiaramente perché c'è il turno c'è la famigerata clessidrina che poi all'improvviso si esaurisce quindi io ho la pressione del gioco sto ragionando con la mia testa in più cerco di seguire i vostri consigli che spesso sono validi spesso non combaciano con quello che magari è il mio stile di gioco eccetera quindi vado un po in confusione e non riesco magari a dare il meglio ecco spesso ho notato che ho fatto degli errori perché non ci stavo capendo niente assolutamente di quello che pensavo io e di quello che pensavate voi quindi potete consigliarmi assolutamente assolutamente però adesso cercherò io di regolarmi nel senso non vi offendete se magari per due o tre turni in un momento concitato in un momento importante di una partita non vi leggo così spesso come faccio di solito ma è proprio per una questione che se no non ci capisco niente ho notato anche che è un diciamo è una cosa comune negli altri stream nel senso che è proprio il gioco che ti costringe a tenere gli occhi concentrati lì è come è come quando giochi a un fps per esempio non è possibile che durante un'azione di un fps tu stai a leggere la chat tranquillamente mentre quelli ti sparano capito è una cosa simile cercherò però essendo un gioco strategico e quindi un minimo di finestra io ce l'ho per per leggervi e per per confrontarmi cercherò il più possibile di farlo però quando vedo che inizio a non capirci più niente chiaramente cercherò di autoregolarmi più di questo non so dirvi l'ultima volta è stata un po pesante soprattutto perché a un certo punto mi sono arrivati 200.000 consigli tutti insieme e io per dare retta a poi ho mi è scaduta una volta la clessita e al turno dopo questa cosa mi ha pesato tantissimo e quindi sono andato completamente nel pallone quindi è anche un mio diciamo limite cioè ci provo assolutamente non è che non dovete consigliarmi ma sono io in primis a cercare di bilanciare ecco per esempio la prima cosa che faremo questa sera è fare le quest perché stasera è la serata della routine quindi cercherò di fare intanto le quest e da quello che vedo red white red white penso che sarà una cosa velocissima col mazzo col mazzo rosso aggro quindi riusciremo a fare questi 1000 2000 ne faremo 2000 quindi arriveremo al primo draft tra un più o meno non so una quarantina di minuti quindi intanto parto quindi visto che questa sera sarà una cosa abbastanza rilassata cercherò comunque al massimo di leggere vi faccio il singleton è ormai sono partito con questo perché perché così magari approfittavo per per fare quel margine in più di gold però tanto sarà una cosa parecchio veloce ecco perfetto intanto e ricordo che siamo sul canale che vanta il bollino ufficiale della wizard of the coast in realtà no quello me lo sono inventato io mannaggia il bollino ufficiale statistica l'anomali inside il che vuol dire che siete su un canale veramente tanto tanto sfigato quindi la mia forza è questa sappiatelo si no tra l'altro il singleton su butai oh dio ma ora mi viene da chiamarti crashestro comunque su butai il singleton non volevo farlo però io non sono riuscito ancora a montare un altro mazzo che non sia il solito maledetto maledetto purello il solito come si chiama historic ciao ciao benvenuto ti piace il nome del mazzo è sì questo è proprio il mazzo da da farming da farming proprio no mi andrebbe in effetti di fare un di fare un bellissimo singleton però come ti dicevo non ho non ho montato nulla di veramente efficace a parte il coso come si chiama gli historic che non non so neanche come si è messo francamente comunque avete qualche domanda o suggerimento oppure magari mi dite le vostre routine di gioco mi capisci in cosa il signor gufo in particolare oh tu chi sei? ah tu quando muori vabbè ciao buonasera juks allora tanto calo lui ah è vero è ah ma devo farlo per forza oh che bello me lo devo fare da solo in pratica bellissimo allora aspetto con ansia il draft ok spero di non di non fare tardissimo la tua routine è che ammazzo shalai quando tocca il terreno esatto eh lo la adotterei molto volentieri questa tua routine il problema è che non ho non ho modo per il momento no io per il momento non attaccherei tu fai le missioni giornaliere e ti faccio 15 vittorie e ti fai 15 vittorie ho capito quindi ma draft quindi non non li fai spesso perché quello è davvero un ottimo modo per aumentare la collezione comunque ma mi sa che questa partita è nata morta proprio si mi sa che infatti eccola eccola un'aura oh vabbè niente io questa la concetto subito tanto è andata non giochi a magic su pc ah perché la parte che ti divertiva di più era l'unire carte di vecchi mazzi in quelli nuovi cosa ah no 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 qui ancora no ma tu per vecchi mazzi intendi proprio cose legacy di anni e anni fa no? ho capito si qui praticamente ci sono solo le ultime le ultime espansioni per il momento non so se se faranno qualcosa in merito a questa cosa non lo so sinceramente questa va un po' meglio si qui c'è solo lo standard hai giocato fino al 2009 si shalai è incredibile infatti volevo tanto mandarlo via ma non mi è stato possibile ah qua posso mettere il tappo automatico tanto sono tutte tutto rosso quindi facciamo prima la tua routine è che hai iniziato da poco a giocare magic mi sembra appassionato quindi quello che ha detto prima per come formare i gold è stato molto utile si ah si si te lo consiglio grazie te lo consiglio perché almeno insomma per quello che ho potuto vedere io è il modo migliore perché il problema grosso chiaramente nei giochi di carte in tutti i giochi di carte è che all'inizio non hai un cavolo e quindi ogni gioco di carte ha una curva di diciamo di costruzione di una base di carte sufficiente a farti divertire e a fare quello che vuoi alla fine perché sostanzialmente a meno che tu non sei un professionista o qualcuno che gioca solo col metagame che attualmente va di più perché è il più forte per carità non c'è nulla di male in questo però potresti anche essere un giocatore casual cioè io mi definisco un giocatore casual non sto appresso al metagame io monto il mazzo che mi piace montare e quindi all'inizio è un po' complicato riuscire a ad avere una base di carte sufficiente appunto a costruirti il mazzo che vuoi quindi ecco avere una routine eccetera che ti aiuta a massimizzare perché spesso poi c'è il rischio che che perdi tempo a fare cose e magari perdi anche gold inutilmente ok a meno che non sei ricco no no certo certo ovviamente non parliamo assolutamente di di comprarle cioè quel discorso lì è escluso completamente perché chiaramente se hai se hai modo di spendere anche anche quei 20 euro quei 20 dollari che sarebbero poi quelle tasse 24 euro se non erro anche se gli dai 24 euro al mese che comunque per un videogiocatore che se uno ha a disposizione comunque un budget eccetera non è neanche troppo nel senso World of Warcraft per esempio costa 13 euro al mese oppure comunque un giochino al mese su steam te lo compri in genere no quindi volendo con quei 24 euro ti ci apri se non erro 15 buste o una cosa del genere che sono sono parecchie oh wow questo è arrivato proprio preciso preciso bellissimo io continuerai ad attaccare io continuerai ad attaccare proprio come un treno quindi ecco già 15 bustini al mese fanno la differenza anche perché poi ti aumentano il vault chiaramente che non si vede ma c'è ragazzi vi assicuro che c'è e ti fa acquisire le wild card di prepotenza esatto e poi vado con lei perché quanto l'adoro sta carta ah mi sa che ho fatto una modifica mi sa che ne ho messe 4 e ho tolto un un coso uno di quelli che fa 4 danni o se non ti fai 4 danni mi fai pescare 3 carte le wild card sono l'invenzione tra virgolette di questo gioco per sopperire agli scambi sostanzialmente per sopperire ai classici scambi di carte perché se tu stai diciamo completando un mazzo e non hai la carta che ti serve per completarlo per esempio normalmente come so vai nel tuo negozio di fiducia la scambi o te la compri proprio fisicamente eccetera chiaramente in un gioco del genere queste opzioni non ci sono e quindi si sono inventati queste wild card che non sono nient'altro che dei jolly allora facciamo il viascino sono dei jolly che trovi all'interno delle bustine esattamente come trovi una normale carta puoi trovare questi jolly che hanno una rarità e li puoi scambiare per una qualsiasi carta della medesima rarità quindi praticamente puoi puoi farti il tuo bel mazzetto come ti pare bene grazie su butai ecco vedete per esempio in questo momento riesco abbastanza bene a leggervi perché comunque è un mazzo di routine nel senso vado abbastanza automatico però ci sono dei casi in cui vabbè lo sapete meglio di me insomma ci sono archetipi ci sono metagame che richiedono concentrazione perché hai 4000 possibilità capito quindi in quei casi è un po' complicato wildcard devo dire sono una fantastica invenzione di di arena certo non è che siano proprio guardate la sfiga suprema questa purtroppo non ci posso fare niente comunque sono non è che siano proprio frequentissime però si inizia a sbustare spesso ti fai un bel gruzzoletto dai a questo punto potrei togliere lui e avrei due mana per runaway si a questo punto della partita si si lo farei francamente ok e dicevo che dicevo parlavo dei wildcard si sono un bel sistema cioè almeno riesce a finirti i i mazzi constructed senza problemi buonasera benz77 ben trovato ciao romaroki benvenuto ben trovato anche a te buonasera si no no diminuiscono la grandissima frustrazione perché veramente giochi del genere senza un meccanismo simile o comunque qualcosa che che ti permetta di prendere la carta che vuoi e che ti manca sarebbe un casino adesso risk factor lui me lo deve per forza far passare ecco però devo sbrigarmi va bene vedi però che succede vai speriamo di pescare bene è vero si 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 è vero è vero è vero sono andato di di automatico no adesso chiaramente il primo risk factor non penso che se lo ah vedi se lo becca se lo becca e potevo fare l'altro si è vero è vero sono andato automatico vai tranquillo questo esplora doppio ti piace? ah scusa non l'avevo letto ti piacciono i polimorfi? beh così così devo dire non mi fanno impazzire viascino viascino mi aiuta tanto perché adesso muore praticamente grazie cascino mi dà anche bene uno shock vedi anche nonostante i miei errori da da disattento perché effettivamente mi distraggo mi distraggo un sacco e vabbè grazie del del supporto vedi vedi poi che succede però questa è buona io sono sicuro che se mulico adesso mi escono quattro terre e la schifezza come prima però sono il primo ad andare mamma mia dai rischio vi do un po' di spettacolo dai hai vinto con un bain fire da 5 eh ah questo c'ha i vampiri mi sa ecco qua perfetto io non devo farle queste cose io non devo farle queste cose perché mi mi ostino a farle io te lo faccio fuori lo sai te lo faccio fuori nella vecchia maniera però oh ecco il mana ecco il mana ecco il mana piromancer vieni qua da me che poi mazzo di sì no no certo se quello parte bene chiaro oh ciao emara ma benvenuta mannaggia la miseria tu che facevi ogni volta che ti tappi e va bene facciamo che non ti tapperai mai in vita tua no sì sì uccidila ok mamma mia guarda se usciva la se usciva la montagna facevo il chain wire vabbè però faccio lui dai evviva la tua connessione sì eh sempre sempre come al solito mannaggia però ma che posso sapere che providerai bravo bravo fai tutte queste cose stupende perché così la prima montagna che arriva ecco questo questo non mi sta molto bene ai 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 no buona cosa no buona cosa devo fargli fuori dopo chiaramente io ne faccio fuori io faccio fuori dopo però devo devo buttare due lightning sì subutai is the new crash estro sì sì ah mi esili qualcosa bene no niente sto accusando tantissimo il peso del della mancanza di quel mana non è mi tocca fa eh grazie adesso non mi serve a niente però mannaggia guarda guarda c'è no addirittura se ne avessi sei di mana potrei fare una cosa fantastica va bene sì proprio adesso esatto sì esatto con addirittura il tribunal per lo steam king eccolo un altro questo invece crea due cosetti ok sì è bello agguerrito mamma mia che ti devo dire come al solito no mana proprio agguo qui vabbè sta proliferando mamma mia la vedo veramente brutta sì sì no niente vabbè qui il mana in quel punto lì sarebbe stato risolutivo perché ovviamente non avrebbe avuto i token non avrebbe fatto un po' di cose però vabbè che devo fare e va bene sì è maleducatissimo veramente questa gente io non la farei proprio neanche loggare in questo gioco dovrebbe esserci un test attitudinale se sei troppo ignorantone no mi dispiace e funziona il cosa no il plugin voi leggete tutte le carte eccetera eccetera decidete funziona o non funziona vediamo aspetta vediamo se a me funziona se a me funziona non so provate a ricaricare se non vi ah funziona non ti possi no mi fai gli scherzetti va bene la teniamo che bello comunque aspettavo finalmente la rotazione per il draft e sono molto contento di questa cosa buongiorno non mi piace per niente questo bel mentor per strike eh ho preferito l'altro lo sai non mi piaceva tantissimo lui per esempio potrei farlo fuori dopo con quello senza problemi il regale augello citazione fantastica ah tra l'altro tra poco è è periodo di di quei film si 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 lo faccio lo faccio fuori adesso perché così metto un segnalino qui che fai? ah ok peschi due carte va bene va bene direi e direi che ho tre manasoli facciamo così poi facciamo così poi tu no perché tu devi ammazzare dopo lui vai ok crashestro sei definitivamente crashestro vedi non ce la posso fare a chiamarti su butaglia adesso ah ci hai provato nel senso che te ne sei andato proprio va bene no ma perché sei così cattivo con me no vabbè però potrei sfruttare aspetta eh potrei sfruttare questo sì allora io faccio tre danni a lui sfruttiamola no quella mana intanto vi leggo dopo facciamo un draft sì facciamo un draft perché sto facendo proprio i gold per il draft e vi conoscete in live in che senso cioè se alcuni di noi ci conoscono ci conosciamo già per conto nostro sì qualcuno sì poi mi prendo le tre mana e gli faccio risk factor mazzavo questo prima di morire cioè ha fatto veramente faville che bello il canto del cigno proprio bene ora puoi distruggermela c'è il trucchettino per salvarlo no va bene servirebbe un mana adesso perché così posso fare questa qua e che mi salva un po' ovviamente non arriva il mana ma che cosa stiamo scherzando per caso dopo volete farlo di chat draft no ma questo sicuramente se lo se lo prendo in faccia adesso sì esatto sarebbe stato figo non la chiama è vero mi porto sfigata solo dici sì ve lo facciamo di chat bello bene bene sono contento che vi va io sono sempre felice di farlo di chat aspetta che lo imposto già da adesso così non mi scordo ah ok no non me lo fa fare perché dice ma non stai facendo un draft quindi che cosa vuoi adesso per esempio il risk factor potrebbe avere senso quindi prima lo attacchiamo anzi no voglio farlo subito così vabbè intanto li dichiaro così lui si può un po' un pochino vai quali altri giochi di carte ho giocato in passato mmm e cartacei cioè proprio fisici no fisici in realtà no in realtà qualcuno qualcuno ho provato a giocarlo in effetti oltre a magic allora diciamo cartacei proprio reali ho provato a giocare quello di star wars ma parliamo proprio di di una quantità di anni fa che non so neanche se esiste ancora quel gioco cartacei comunque c'era il trading card game di star wars che era anche fatto molto bene devo dire però quando non hai amici che che supportano la tua malattia chiaramente poi c'è poco da fare quindi niente non ho continuato a giocarci poi ho provato no sono stato attirato ma non l'ho non l'ho comprato per fortuna un gioco che neanche ricordo come si chiama che era praticamente appena uscito ed era era basato su personaggi famosi dei che ne so dei film delle serie tv ognuno c'aveva la sua carta con le caratteristiche non ricordo assolutamente come si chiamava e poi boh basta credo facciamo un altro risk factor no prima attacco vabbè dai comunque è andata questa il tizio dovrebbe avere una specie di izet strano perché poi ci ha messo il bianco non lo so sinceramente però non è che sia proprio fantastico come il mazzo eh sì potevo farlo effettivamente prima vabbè vi state chiedendo perché non l'ho fatto prima non lo so perché qui siamo così un izet che non sta funzionando proprio per niente bene esatto vedi avevo vinto il consiglio di darsh bambini è state attenti al gioco e non parlate a bambera mi raccomando perché perché dico questo perché se lo avessi fatto subito avrei pescato questo e sarebbe morto proprio secco proprio secco secco izet boros sì un incrocio fra in effetti vedi ha messo il il legionario e comunque io vado proprio in faccia così angelo di platino no dice no non credo che giochi nulla credo cioè che cosa puoi avere ok grazie un attimo ho preso un colpo credo che abbiamo quasi finito i gold le quest sì finite infatti abbiamo 5100 quindi possiamo fare il draft però vabbè adesso continuo hello quindi ci sei subudai funziona un po' no dai però queste cose con la montagna sola però ho due lava runner ho due lava runner ci provo dai ci provo almeno ci sbrighiamo ah scusa scusa pensavo che è ricaduto perché twitch ha deciso che questa sera non potevi ti posso chiamare come mi pare no no lo so per carità è che che poi magari confondo anche gli altri capito se ti comincia a chiamare crashesso gli altri dicono ma chi sta a parlare questo subutai che poi tra l'altro il tuo nome vero cioè effettivo da anni e anni sarebbe subutai quindi la carta per ogni colore di mana che reputo sia la più forte oh mio dio che domanda strana dipende dall'archetipo dipende dal metagame che stai che stai giocando e poi francamente devo dire devo essere sincero che non ho questa enorme conoscenza di tutte le carte del formato francamente quindi non saprei manco darti una risposta effettiva capito comunque durante i draft cioè i draft sono un ottimo modo per per imparare queste cose va bene ho incontrato un bel lag e lo sparino come me e va bene che ti devo dire se tu sei cattivo io ti faccio lui per esempio subutai lui ha una vastissima conoscenza di tutte le carte quindi non so se magari può risponderti in maniera più soddisfacente di quanto non abbia fatto io vado tu per caso sei no vero non sei haste no vai te la cavi vedi 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 vai non sai draftare ma in realtà neanche io perché chiaramente non essendo abbastanza amatoriale nel senso non è che gioco tantissimo gioco a magic da da vent'anni per carità però diciamo nello standard purtroppo non ho molto tempo per specializzarmi però no è comunque divertente in realtà sono veramente poche le persone che possono definirsi brave a draftare devo dire perché non è per niente facile tu 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 non mi piaci per niente proprio 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 per niente quindi praticamente ti faccio fuori con lui leggo stai elaborando ok si no è veramente troppo troppo vasta come domanda abbi pazienza potrei no potrei non fare nulla per il momento lasciamo così perché siamo abbastanza in vantaggio quindi ci uccidigli quel coso si prima regola del gutter snipe se vede il gutter snipe lo ammazzi esattamente su re-education al darsh però aspetta io ho 5 danni qui siamo 7 1 a 8 lui va a 4 e poi gli scarico lo sperimental frenzy io quasi quasi provo dai faccio l'aggressivo ragazzi sparare a vista devo provarci anche perché se mi esce il mana e riesco a buttare giù la frenzy con belle cose forza che vogliamo fare il draft su eccola bene 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 vabbè mo lui farà piazza pulita chiaramente c'è qualcosa deve fare esatto però però gli sto facendo le creature il che va sempre bene per una volta che esce la terra davvero guarda zitti zitti per favore perché qui non si sa mai mi sa che con questa giù caro sei un po arrivato addirittura il dragone cos'è che mi fai 5 danni a meno che non sacrifico lui 5 danni però io lo sacrificherei se c'è un'altra terra dopo cominciamo malissimo la serata training autogeno lol esatto devo essere un moai questa è la mia nuova filosofia soprattutto in mezzo al traffico di roma ho deciso di adottare la filosofia del moai imperturbabile a volte non ci riesco però bene bene mi fa 10 danni così quindi praticamente se qui dietro non ci sono 6 non ci sono 2 fulmini in una pressa all'alto sono morto ragazzi che vi devo dire un lava runner non mi serve però che ti devo dire bene però sono tutte attenzione su tutte e due haste attenzione attenzione se venivi prima tu mannaggia niente non ce la faccio non ce la faccio non ci posso credere vabbè bravo leggo aspetta no prima concedo e poi leggo specializzo la domanda per un deck per esempio quello che ho io il boros non angelo quale sarebbe per il tuo la carta più utile da inserire ok si hai visto che roba che ho fatto comunque è stato bravo perché ha bilanciato bene le cose da fare devo dire che abbiamo preso overflowing inside allora no no voglio fare il draft allora aspetta che attivo si no aveva trample ragazzi boh vabbè in realtà volevo fare il draft sennò qua si fa si fa a finire troppo tardi era semplicemente per per fare i soldi per il draft vado eh siete pronti ci siete è perché le esigenze di live a volte purtroppo lo fanno vai vado eh allora allora cerchiamo per favore di fare almeno dunque per fare il draft vedi peccato per un soffio qua 1360 no dobbiamo fare 6 vittorie eh si 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 devo poi vabbè questo credo che lo farò domani non completo mai ma ragazzi io ve lo dico che non che non gioco tantissimo perché non c'ho tempo mi dispiace vadi fantocci vadi vado sei vittorie ragazzi forza aspetta che devo mettere qualcosa che se no non vi leggo ok allora per votare cliccate sulla carta se non potete farlo me lo scrivete in chat purtroppo è brutta è brutta la vita di chi non ha tempo vabbè qua chiaramente ci sono cose molto molto belle ecco per esempio un mazzo con book non sto dicendo che voglio fare un mazzo con book ma un mazzo con book non l'ho mai fatto per il momento in generale proprio né nei draft né nei constructed sì due carte molto forti questa questa anche è carina però voi ovviamente siete tutti quanti siete a votare siete parecchi votate ragazzi non abbiate paura va bene chiaramente non perdiamo troppo tempo mi sta già piacendo molto questo draft allora questa è carina però non lo so se in un draft la sceglierei e dipende chiaramente l'Electromancer è stato carino vabbè c'è l'agent chiaramente che è fantastico però io credo che siamo tutti d'accordo poi c'è Radical Idea ovviamente vabbè sì l'informant se hai un mazzo surveil sì scelgo io seguendo i vostri consigli in generale certo non cioè se mi scegliete la terra in questo caso vi dico no 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 niente niente fossilizzarci assolutamente eh sì certo questo è Boros però adesso siamo al secondo pick quindi possiamo tranquillamente solo che sinceramente anche io avrei preso il cavaliere qua il troll vabbè chiaramente è fortissimo l'assassino abbastanza e soprattutto nei draft in cui c'è carenza di queste meccaniche particolari poi avevo visto Notion Rain sì qualcosa c'è comunque la lanterra era carina è vero ciao Stefano benvenuto ben trovato allora stavamo dicendo sì siete tutti per l'assassino e tu dici la statua ma dove intendi la carta doppia questa qua eh lo so lo so lo so anche questa è bellina ricordiamoci che non abbiamo molte rimozioni a disposizione in questi draft comunque io andrei o su o sull'assassino però a sto punto se devo prendere una carta col nero probabilmente preferirei questa siamo tutti per statue non l'assassino ah sì no io qua leggo tutti tutti assassino non so se avete qualche problema ah ok perfetto allora ho fatto lo stesso ragionamento pur vedendo una votazione diversa io vi giuro che qua leggo cinque assassini va bene quindi siamo d'accordissimo oh questo è carinissimo vediamo se c'è altro di abbastanza utile questo è del golgari però non so la patrol è carina è carino del duet anche chiaramente perché è una rimozione a questo punto forse preferirei la rimozione c'è il patrol chiaramente che è volante come dicevo vabbè sì qua qualche scelta c'è sinceramente non so che sceglierei io non sono ancora proiettato verso un archetipo particolare però però questo a me piace tanto sulla curva del 2 mi piace tantissimo e chiaramente mi piace tanto anche la rimozione il volante sta meglio in boros assolutamente perché chiaramente ha mentor però boros non so a questo punto quanto sia fattibile ormai beh oddio sì sta meglio in un boros però comunque comunque anche dovessimo fare un mazzo con Vogue comunque bianco verde ci sta benissimo aspetta che vi leggo il 2-2 lo ritroviamo perché chiaramente sì sicuramente o la rimozione o questo io io però le rime azioni ragazzi io sono sempre scarsissimo di rimozioni mannaggia questo è difficile se dovessi darvi retta prenderei il volante che teoricamente sarebbe quello da prendere perché stiamo facendo un chatraft va bene dai prendo il volante su sperando che le rimozioni tornino qui c'è il peacemaker che non mi fa impazzire volendo c'è vabbè la doppia terra però chiaramente vediamo prima cose diverse c'è la pricing la pricing è fantastico beh potremmo comunque fare sempre verde e bianco con una splashatina cioè non è che ce l'ha ordinato il dottore comunque sì sono d'accordissimo andiamo avanti tranquilli mi sa che stiamo virando da da un'altra parte anche se non so se rischiarmela sinceramente sì sapete che sono d'accordo a prendere la multiterra quasi quasi sì sono d'accordo in questo caso sono d'accordo con voi anche perché per una eventuale splashatina ci sta bene allora qua qualcosa c'è considerando che vogliamo sempre tenere il bianco c'è lo sparo questo è carino sempre sempre carino io in realtà anche lui è carino prenderei a questo punto i danni o la creaturina cancello per eventuale splash sì se hai tre pick buoni di un colore e uno normale di un altro non cambi colore di punto in bianco a meno che non sia una carta forte no no a parte che non abbiamo ancora neanche scelto il colore è ancora presto sì comunque ride us blow mi fa piacere ma a questo punto il bombardone potrebbe essere un'idea però bisogna sempre tenere presente che parliamo di undergro altrimenti la rimozione però è un po' troppo specifica queste sono bruttine scegliete voi sta vincendo la canopy allora io tra queste due francamente sceglierai il vermone devo dire a questo punto perché questa è veramente cioè carte del genere è veramente rarissimo che le metta poi alla fine nel mazzo finale però insomma può anche starci per carità però siete state cambiando idea state cambiando piano piano idea quindi non mi sento non mi sento troppo in colpa no infatti va bene scelgo io dai il vermone a questo punto qua prendo la la rimozione tra virgolette voi mi state suggerendo questa beh pure io prenderei la rimozione francamente cioè questa specie di rimozione qua però effettivamente è un po' specifica questa perché non fa bloccare però comunque può attaccare però no è vero è troppo specifica potrebbe andare bene anche il guardiano in effetti vai guardiano ci sta bene vi leggo non metti nessuna delle due the motion non va bene per noi si disattiva è fortissima sono d'accordo però non mi sconfinferà molto per questo tipo di andazzo che sta prendendo il mazzo ci ha preferito prendere la creaturina stabile diciamo si ovviamente difendere rich vai che apricci twitch aspettate che controllo se c'è qualche problema qua cioè ti va in in buffer come al solito cioè come succede in questi casi no qua qua dice tutto ok mannaggia twitch ok voi avete deciso che devo prendere il la la terra che ci sta per carità però anche il muretto era carino vai terra beh in realtà stiamo prendendo molto anche sul sull'undergrow sul golgari sarà interessante fare il mazzo vai coi rider un altro worm mamma mia no qua prendo lui allora a questo punto lui e lui vai secondo pic non ci posso credere questa tra l'altro mi serve proprio finalmente una cosa che mi serve per costruirmi un qualche tipo di marzo seleznia bello 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 però la spresciatina nera non la disdegnerei si si instant pic proprio ecco questa per esempio a parte qualcosa di dimir e forse questo che però non so ancora se riuscirò mai a spresciarlo allora a questo punto sto mazzo non vedo altro altro sinceramente voi mi dite all'utopia per rampare un pochino beh potrebbe essere un'idea si potrebbe essere un'idea ah il restorer non lo so in questo caso io sarei effettivamente per utopia lo sapete falcione che aiuto sarebbe il restorer si non lo so mi attira un attimo utopia questa pic non so perché ok questa ci rampa ci fa prendere la terra due terre in realtà quindi oh madonna che bestione cioè questa ovviamente che è una rimozione che dovremmo iniziare a pensarci alle rimozioni esatto cioè rimozioni poi tra virgolette vado assolutamente di nuovo di nuovo lui che di nuovo non mi fa tanto impazzire però non so questa è carina di nuovo la rimozione per creature volanti c'è il centavo che è molto buono si si sono d'accordo non l'avevo visto ci ho avuto proprio la la cicità selettiva valeva lo splash dici solo lui e qui oddio non c'è un cavolo diciamo queste tre così tanto per al pic prima che ho preso ho preso ho preso il centauro oh per questa siete un po' indecisi tra lo stray e il recluse stray e recluse stray e recluse peschiamo una cartina a questo punto se proprio dobbiamo far qualcosa oppure anche rich è carino però 1-4 rich dai 1-4 rich ci sta ok di nuovo lui di nuovo utopia che però l'avevamo preso a sto punto no si basta ricordiamoci che potremmo anche fare lo splash nero si anche lui è vero anche lui può andare lo possiamo prendere ah qua qualche cosina c'è dai ve la state combattendo eh no no anche utopia ce l'abbiamo già uno di utopia non so non so francamente se se ne metterei due allora devo decidere io e tra questi due io francamente preferisco la creatura anche perché nella curva del 2 non stiamo prendendo niente quindi vado con la creaturina un altro centauro un'altra di queste creaturine witness di nuovo la rimozione per volanti beh più o meno sono tutte a pari merito forse il centauro ha una leggera marcia in più però aspettate perché vediamo la curva la curva è un po' vabbè chiaramente devo togliere roba e non è quella veritiera però siamo molto un pochino spostati sul 4 quindi però si ci sta il centauro si si ci sta ci sta al vero assolutamente vado oh che bello sono contento di fare un mazzo comunque almeno un po' con book un altro centauro quello che questo no qual era ah il peacemaker no non ce l'abbiamo e se no ah ma questo è un tricchetto carino quello è un tricchetto carino secondo me potremmo prendere anche quello ah bene vedo che siete d'accordo vado un altro gatto e un altro con book ah all'istante questo si questo me lo ricordavo pure questo è un bel tricchetto sta stravincendo il tricchetto va bene e dunque qui questo non l'avevamo preso più vero no quanti gate abbiamo abbiamo due gate quindi questo qua non è molto no non mi piace sinceramente vado di restorer questo ci fa mazza sembra la stessa identica pick della busta prima questa qui c'è sempre il problema dell'underglow che non è molto presente quindi non so quanto basarci no francamente è quasi per niente presente quindi non lo so in questo caso direi sì a questo punto questo vabbè qua vado io tanto witness un cavolo è un altro witness ok ultimo pick ultima busta eh vabbè non ci ho detto benissimo c'è questo che però è fantastico c'è un altro might of the masses e poi 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 basta niente di di particolarmente succulento a parte chiaramente questo perché questo convoca però è necessita di di creaturine quindi bisogna anche prendere le creaturine perché se no il convoca te lo dai io direi di farne almeno 17 di mettere almeno 17 le creaturine 17 forse no 18 forse troppo ma 17 almeno sicuro vado con ah sta vinta c'è un cambio di all'ultimo minuto va vincendo la il falchetto qui il nobile augello va bene dai prendiamo il nobile augello bene qui tutto dimir un altro nobile augello ah c'è un altro tricchettino poi eh lo so ma scegliete voi dai cioè se c'è così tanta disparità un altro nobile augello ma vi piace proprio tanto ah voi dite per i convoca sono fantastici questi giustamente va bene poi ah questo quando entra in gioco fa fa fight di nuovo il trick non sta andando benissimo beh però questo è the touch questo è the touch non lo so eh perché comunque di diciamo di curva alta abbiamo già qualcosina buona non so se a questo preferirei quasi quasi questo the touch eh non lo so rimozione dov'è oddio l'ho persa ah questo intendi si ok si però costa 6 ti era andata a puttare la connessione ai 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 e allora avrebbe vinto lui fatemi vedere un attimo questo è convoca questo non è convoca ma non so se metterlo io questi sono tutti convoca si ci sta bene l'indrick si però anche la gorgona era bella eh devo dire il worm non lo gioco non lo so vediamo no no non penso proprio di giocarlo in effetti no però io parlavo di questo 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 no questo no comunque siamo messi benino di nuovo recluse che però mi sembra che già ce l'abbiamo no si splash nero non lo so devo valutare eh però non è che abbiamo tantissimo cioè abbiamo questo che chiaramente è buono come carta lo statue perché è una rimozione ma fare uno splash solo per questo non lo so se vale la pena e poi c'è questo che rende dettaccio tutte le altre creature e tra l'altro fa questa è fantastica sta carta cioè proprio proprio bella quindi si lo potremmo fare lo splash si vale la pena farlo tra l'altro abbiamo anche due guild gate quindi si può fare e quindi abbiamo un'altra pricing volendo voi avete votato il recluse no assolutamente no e c'è utopia dov'è questo vero e tra l'altro abbiamo anche qualcosa che ci faceva pescare le i guild gate da qualche parte no eccolo si no ragazzi tra le recluse e un altro uprising io prendo l'uprising cioè questa è una cartona lo so aiuto ma voi non l'avete neanche votato l'uprising ma proprio nessuno l'ha votato ma perché siete cattivi dite che non che non ci sta bene un'altra pricing ah tu l'hai votato io non lo vedo qua però tra i risultati ti giuro vabbè comunque sono tutti per o il guardiano o il recluse mi sento proprio di prendere l'uprising cioè rispetto a quelle due carte lì faccio questa pic mia di di testa dai concedetemela qui una schifezza totale voi dite a sto punto beccati il locket no a sto punto prendo qualcosa che serve a me cioè no che può servire a me tipo questo che ne so magari un domani lo userò in un'altra vita oh qui abbiamo i warm un'altra volta sta cavolata qui due di dici che sono troppi di uprising vediamo dai vediamo come si mette il sì questo è un peccato è vero no questo assolutamente non posso prenderlo con una splashata di nero no no ragazzi non posso mi spiace non me la sento di giocare un doppio nero su uno splash vado di locket ma non lo userò mai sicuramente qui abbiamo com'è la curva poi dopo la sistemiamo però non è male abbiamo un altro tricchettino avrebbe stato un ottimo removal eh sì 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 è vero è vero lo so ma mi viene l'orticaria a prenderla sinceramente marshal che fa il marshal ah crea i soldatini va bene qui abbiamo il peacemaker e un guildgate peacemaker potrebbe essere buona come carta effettivamente però fa guadagnare 4 4 vite anche all'avversario vi ricordo ciao franciccio ha rieviato il modem ah mannaggia però ti sei perso tutto il draft mi dispiace non è cambiato nulla quindi è proprio twitch niente non c'è niente da fare vai prendo il guildgate qui vado io un cavolo vabbè cose a caso tricchettino un'altra volta quanti tricchettini lo devi far prendere questa è questa è la carta che piace tanto a subutai a te il centano non piace no neanche a me boh a sto punto ho preso il gate dai tanto e il gattino l'avevamo preso no avevamo preso l'altro ma quindi mi prendo il gattino vabbè qui a cosa a caso mamma mia questa è questa è dura vediamo un attimo allora le creature sono tantissime chiaramente devo togliere il worm questo lo teniamo forse due centauri sono troppi abbiamo detto forse sono un po' troppi provo a toglierne uno poi vi vi ascolto tranquilli faccio un attimo di due rino forse sono troppi questo undergrow questo era buono qua c'è una marea di roba per il momento pensando alle creature questo si aspetta perché qua c'erano un sacco piccoline forse queste qua sono troppe mi sa tipo tipo questo lo toglierei questi no quante siamo adesso 17 attenzione allora vi leggo comincio a togliere lo schifo di il worm ho fatto i drop 3 devono diminuire li ho diminuti un pochino però adesso pensiamo anche un pochino alle cose tolgo i golgari infatti ah ecco adesso pensiamo adesso a istantanee stregonerie allora questo non lo so trick questo ovviamente lo teniamo questo ci aiuta però qua il problema è che ci sono tante cose questa è una rimozione questo mi crea i token che mi aiutano col convok questo lo togliamo tricchettini ovviamente sono tantissimi quanti tricchettini vogliamo tenere uno due il locket lo tolgo questo ovviamente non si tocca aspettate che muo vi leggo giuro questo mi mi aiuta ecco questo per esempio ne metterei uno per il momento di uprising questo lo lasciamo e ok come siamo messi eh male dobbiamo toglierne altre cinque ok vi leggo allora il golgaria rimetti il centauro rimetti il centauro dov'è il centauro perché l'ho tolto dove il centauro ah questo si perché l'ho tolto beh perché ne abbiamo due ah solo un tricchettino sono d'accordo ok e dobbiamo togliere un'altra creatura però adesso abbiamo tolto il centauro dove la togliamo la togliamo dal 3 tipo il gatto cazzo ci frega del gatto non ho detta proprio così il gatto toglierei è vero che ci fa pescare però oppure da 4 aspetta potrei togliere questo si dobbiamo togliere qualcosa dal 4 posso togliere o il questo qua il rinoceronte questo vola e fiammentor questo c'è convok tolgo il rinoceronte va bene poi e si 2 upricing no 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 2 upricing vuol dire che li lascio 2 il 4 te l'ho tolto credo se ti riferivi a quello l'ho tolto ok si io li lascio 2 upricing ma però devo togliere altre cose ragazzetti miei devo togliere 5 carte che tolgo non creature però le creature basta le creature rimangono così quindi tolgo i 2 dannini così a caso si potrei togliere questa per esempio questa no questa no questa questo punto che dite quante quante swamp mi ha messo mi ha messo 2 swamp mi piace posto le spell si va bene ok la curva delle creature è questa la diciamo la prima colonna di ciascuna curva sono le creature qua ci sono solo creature chiaramente questa no ok considerando tra l'altro che queste sono tutte con book diciamo che sono tante queste qua però dai ci sta ciao zinai ben trovato buon sabato sera e cosa la curva delle creature sopra dove c'è il falcione ah il faccione eh lo so comunque è questa diciamo non dovrebbe essere così alta a 1 però ci sono cose che ci servono per il con book quindi io non so aspetta che vi leggo no ti serve per lo splash al massimo ok marcia a swarm compagno sono instant ma che ti danno creature le conto come creature tu dici quindi potrei togliere qualcos'altro tipo una e una di queste tu dici questo che mi conta come due creature però non sono solito fare questi questi calcoli così non lo so comunque potrei togliere un un questo così facciamo 16 si è un po' abbassata dai fa un po' niente alla dunque alla curva 6 non ci sono con book vero di creature si invece si quindi va bene questa è la 5 tu non sei con book e tu si secondo me va bene la curva ah poi tolgo quello che mi cerca terre dici ma l'ho già tolto ah eccolo dici di togliere questo lo so che è un peccato ma qualcosa devo togliere ragazzetti miei qualcuno mi diceva che non che questo qua no questo è bellissimo no ragazzi quello che mi cerca le terre quello che mi cerca le terre potremmo sacrificarlo va bene mancano due e no io sinceramente preferisco questo sapete perché perché quando muore chiaramente rimane comunque un soldato in gioco e mi serve sempre per il per il con book niente bisogna togliere altre due cose tu toglieresti l'osso d'onte ah recluse è vero le recluse possiamo toglierlo aspetta va dove ti porta la prostata si allora recluse sono d'accordo perché tanto chi se ne frega poi quello che mi cerca le terre l'abbiamo tolto questo utopia utopia sono un po' indeciso su utopia tu dici a questo punto aspetta se io tolgo questo rimetto il falchetto vediamo la curva ok va molto meglio non considerate questa parte qui perché questi ci devono stare ok e utopia tolgo ragazzi non so che altro togliere siamo a 15 creature quindi basta siamo al massimo qua cioè al minimo sopportabile lo so che è sacra però porca miseria che cavolo tolgo tolgo un witness facciamo così quante fonti di nero ho per quante carte allora ho due guildgate due swamp poi ho utopia che mi fa aggiungere un mana di quello che mi pare e mi sembra che basta perché l'altra cosa che cerca le terre l'abbiamo tolta le carte nere che ho sono questa cioè praticamente statue assolutamente che è un solo mana e ho due undercity upracing togliere le paludi siete sicuri a favore di cioè posso mettere anche un'altra tipo che ne so tolgo questa no una palude fatemela lasciare e direi di mettere una pianura in più mi basta una sola palude intendete voi non un solo nero oh ma così è difficile che ci riesco si è vero pesco questo chiaramente però devo pescarlo e ok e sono tre carte su 40 carte tre carte ne pesco una sicuro di queste lo so è un po' rischiosa due cancelli una palude e utopia esatto io pensavo di far così comunque mi trovate un un nome metto questa perché è bellissima si mi fa un po' paura anche a me in effetti questo però comunque utopia lo posso anche usare in quell'altro senso no comunque posso sempre andare a cambiare dopo se vedo che non va bene magic for dummies dai dai un nome carino convocazione dell'esercito che nome serio era il tuo nome una palude allora facciamo un mix facciamo selesnia una palude ok speriamo di arrivare a due no dai ragazzi è così brutto mazza siete proprio ottimisti eh dai proviamo nero ma non troppo è carino dai effetti poi in caso lo cambio dopo botta di culo ragazzi qui in questo canale proprio no proprio no mi dispiace scordate verrà la botta di culo in questo canale ecco vedi già già ho beccato due due guild gate ah mannaggia comunque mi sembra buono questo vai oh c'è un lato tappo ancora ah guarda un po che carini allora guarda abbiamo anche utopia posso fare così che bello che è utopia in effetti allora ricordiamoci che abbiamo questa quindi abbiamo potenzialmente 5 mana io metterei subito lui già mi ha mi ha concesso 4 punti vita wow si metto lui carino bruttino questo però lei allora intanto gliela blocco aspetta dopo che posso fare c'ho qualcosa di convoc c'ho lui che mi costerebbe due no non ce la faccio non ce la faccio ok quindi questo niente ciao ragazzi non riesco a leggervi siete un fiume in piena poi vi leggo quando si chiama la la questione un altro peacemaker bene allora potrei fare questo mi fa pescare potrei fare lui e sono tre mana e 1 2 3 no questo non ce la faccio a farlo farei questo intanto e poi lui ok lui c'ha solo due carte aspettate cerco di leggervi al volo 3 4 se giochi a prima puoi mettere subito tutto il mana che vuoi no il falco in effetti non me ne sono preoccupato anche perché l'ho bloccato mena di tutto attacca cattivissimo cavaliere fortissimo il gatto si il gatto però ho preferito mettere le cose in chiaro per il momento vedi poi c'è l'altro centauro intanto continuo tranquillo a farmi i cavoli miei ok così uno glielo fottiamo forse no e ok uccido l'altro non ho capito perché ha pompato quel vabbè comunque allora farei questo 1 2 3 4 e 5 e il gattino vai aspetta pedine è è sbagliato dici si cioè si è sbagliato no infatti non vabbè cioè è stato un po' azzardato da parte mia farmi fuori però comunque volevo volevo le pedine per fare poi le altre due cose quindi magari ecco ho sbagliato anch'io in quel momento ho preferito far così però per fortuna si è sbagliato anche lui ah ho fatto bene o male no perché lì per lì ho detto porca miseria ma non è che era meglio quello piuttosto che fare le due cose dopo con con il convoc esatto esatto il problema è che non è facile valutare queste cose e ecco qua per esempio sto in carenza di di foreste che però magari mi arrivano dopo ciao Ravencrest buonasera buon sabato sera anche a te qui si drafta come dei dannati proprio non lo so non lo so io la terrei sì però ragazzi non so se vi siete resi conto che ogni volta che c'era una situazione del genere nel precedente constructed è andata malissimo vabbè io la tengo speriamo bene devo togliere la palude no non voglio toglierla vabbè adesso vediamo dai la vittoria della dignità è è andata proprio anzi anche abbastanza abbastanza decentemente proprio come partita era carina va bene questo io faccio fare subito perché poi comincia a pomparlo e fare mentor è la mia palude esatto vabbè per ora no dai vedi che non arriva è la mia palude è vero è sherek tranquilli tranquilli la prossima carta sarà una foresta è tutto calcolato ecco vedi che io dovevo far fuori prima ho sbagliato no no ah è vero perché perché ho fatto questa cosa ah ok 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 no 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 non potevo bloccare che ne sapevo mica era a terra questo prima era a terra no non è arrivata la la cosa però almeno c'è lui meno male buonasera redling cone ah grazie per l'hosting di un paio d'ore fa sì no è vero c'era qualcosa sicuramente me lo fa fuori c'è uno sparino o qualsiasi cosa aspetta provo a fargli fuori ma è inutile però dai io devo parare si puzza un po' però che fai non glielo pari no invece no vai eh sì va bene niente qua arrivano cose che non posso fare porca io lo sapevo lo sapevo non posso prendermi questi 5 punti se voglio vedere il turno successivo niente si mette malino vabbè dai basta no allora da adesso in poi non non tengo più mani del genere basta allora quindi provo a fare quella cosa che mi state consigliando dai tolgo questa cacchio di swamp e metto la foresta va bene quindi diventa selesnia senza paludi ok da adesso in poi togli la palude palude bonificata è bello è vero provo a tenere magari mazzo agropuntino sì per la bonifica però abbiamo detto che in questa situazione avremmo mullicato quindi sì vado ok no la mano era un po' schifetta sì io me la terrei la guild gate faccio faccio così posso fare lui questa è buona vediamo questo dopo ciao dunque questa mi fa qua un 4 3 8 3 buono fatta che vi leggo che avete scritto tantissimo sì che magari non prendevo due punti d'anno prima vedi chi chi pesca le le paludi chi pesca le paludi ancora no la differenza è solo una vittoria esagerato per una creatura al terzo turno ragazzi non cambiava niente per come si è evoluto il gioco adesso non cambiava niente si ma vuoi finire le carte basta eh stop stop alle telefonate chi togliamo chi togliamo chi togliamo il 3-2 vigilance vai sì no leggo perché continuo a bloccare due danni perché non mi va di prendere danni no stavo stavo ragionando in realtà allora no la marcia è ancora presto volevo farla dopo cioè adesso butto giù questo e basta e dopo faccio la marcia sì sì è il turno suo chiaramente ah è vero a cautela è vero è vero è vero wow il bestione potrei far così e lo blocco e poi faccio la marcia allora aspetta fammi fare i conti 1 2 3 quindi 1 2 3 4 5 vai mi fa molto impressione questo affare qua devo dire vabbè intanto attacco con questo che fa poi a prendere più due più due eh potevo fare la marcia e parare no preferisco tenermeli per il bestione lo sai non mi piace per niente quel bestione e comunque sono senza carte quindi è un po' una situazione un po' delicata un po' oh attenzione questo è fantastico intanto attacchiamo con questo ah sì sarebbero più 8 quindi per ora per ora sto buono magari aspetto un attimino il momento giusto tipo mi attaccherà non so farà qualcosa ragazzi magic non è una scienza esatta i se avresti avresti fatto avresti ormai ho fatto quelle scelte in quel momento le ho valutate per quello che erano se mi nonno c'aveva tre palle se dice a Roma era un flipper raga non l'ho fatta ormai quelle scelte quindi basta pensate al presente tu hai qui mi puzza tanto di qualcosa però chi se ne frega 4 danni ciao questo lo facciamo no lo facciamo dopo allora aspetta un attimo c'è sempre questo è più 8 più 8 ora sarebbero 10 1 2 e 3 li attacco con tutto dunque lui mi pare questo questo e questo gli entrerebbero 10 gli entrerebbero 15 no ancora no no allora facciamo intanto attacchiamo sempre con lui tu che fai tu prendi più 2 più 2 ah li attacco con questo intanto poi faccio lui e aspetto un altro turno che mi sembra che sia abbastanza bene no leggo 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 aspetta allora io spaccio no ragazzi non so a che punto mi avete detto le cose no no io adesso aspetto ragazzi proprio tranquillo tranquillo dica va bene o attacca col bestione aspetta dopo dopo lui mi para questo 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 e questo no questo no è uno di questi sono 4 13 e 13 15 dovrei dovrei farcela tranquillamente e se lui però ha questo mamma mia che rischio vabbè che tanto è trampol ora è diventato 5 6 7 8 9 sono 10 adesso aspetta devo fare i calcoli lui mi para questo 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 e uno di questi sono 4 entrano 4 e 2 6 più 5 16 dovrebbe essere lì dal no giusto a meno che non ha cose particolari ma con umana che può avere io vado spero di aver fatto bene i conti addirittura si tende a fare troppo i nostri maestrini ok si ragazzi cioè ok assolutamente potete dire quello che volete potete tranquillamente suggerirmi eccetera però cioè nel senso una volta che ho fatto le mie scelte giusto o sbagliate va bene dire oddio darci magari pochi lì potrei fare questa cosa però non insistete troppo nel senso tanto ormai ormai è andata nel senso magari a fine partita ne parliamo ma lì per lì mi arriva il wall of suggerimentos e non ci capisco nulla sì vabbè tanto è uguale mamma mia che botta era vinta già da prima sì però insomma non lo so io preferisco sempre l'approccio un po' più cauto capito quindi alcune scelte che magari voi avete reputato strane oppure che ne so sbagliate erano semplicemente dettate dalla cautela tutto qua vi ripeto a me piacerebbe veramente tanto rispondere a tutti mentre gioco ma non è non è possibile non ce la faccio proprio anche perché c'è quella maledetta clessidra ma questa c'ho paura a mullicare francamente leggo non pensare a partita penso a quella giocata potrebbe capitare in un prossimo game sì assolutamente assolutamente quello sì il problema è che non posso leggere durante la partita capito quindi ecco adesso che ho finito di leggere tutto quanto ho capito quello che diceva io ci provo a leggervi ragazzi vi assicuro che ci provo togliere la valuta è andata bene è vero è vero è vero è assolutamente vero scelè che credo che l'abbiamo proprio sfrattato poverino stanno uscendo mille terre aiuto addirittura va bene non sei stato molto gentile oh ed è arrivato un'altra volta a might of the masses ma questo per il momento io lo lascio cioè non mi va di sprecare sta cosa per quell'affare lì sì a livello diciamo a livello razionale lo capisco cioè a livello proprio statistico però ti giuro mi dà ancora fastidio il fatto di di non aver messo più paludi non lo so perché sì comincia a farmi un po' potrei fargli potrei bloccargli lui e poi già che ci sto metto utopia no dai il sinale non mi dire così allora mi devo impegnare aspetta dai mi devo impegnare va bene allora io metterei questo e gli faccio fuori lui e il centauro dopo cioè gli trappiamo subito le ali che bella sta carta comunque a me piace un sacco è una specie di ciupacabra poi alla fine no? che ci pensate? oddio no in realtà no perché può arrivare fino a un certo punto però bene va bene sì il mazzetto è carino dai non è vero non la volevo mettere l'avevo tolta è Denver oh mio dio è vero è vero fantastico va bene vado di vado di tutto in realtà vado di lui è di lei di lui anzi perché lei un un selesnia con emara tre centauri l'incantesimo che ti trasforma gli uno in 4-4 e ti è saltata la connessione no vedi vedi che devi cambiare connessione vedi comunque puoi fare un favore ai tuoi compagni di avventure dicendoci che provider hai così lo evitiamo tutti quanti ma le rimozioni che ha pescato questo ne vogliamo parlare per favore dai parliamone no no immagino che non dipenda da te per carità vai eolo cos'è eolo ma esiste addirittura non sei cattivo esiste ah satellitare madonna quindi ma come funziona la satellitare in pratica in download stai col satellite in upload con la DSL tipo tipo una cosa del genere una magica bula che cazzo va bene e quindi ti credo che stai così col satellitare lo streaming madonna però questo quante rimozioni c'ha però dai no non si può cavolo no incredibile guarda io continuo a pescare terra ragazzi aiuto oddio speri che prima o poi ti mettano la fibra eh si 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 ha draftato oppure comunque vi ha girato male in questo momento mono removal bellissimo posso pescare qualcosa di serio no io continuo a prendere terre va bene che ti devo dire vabbè raccontatemi qualcosa adesso posso leggervi chiaramente perché non c'è nulla da fare mamma mia eh però non so se avete visto che diavolo di danni mi sta facendo prendo un gattino io mannaggia oh no dai basta pesco la terra esatto forse of will magari un'altra rimozione ha preso ragazzi vi giuro che l'ha fatto vuoi pescare una terra ma si dai tanto ma si il gioco ok vabbè che ti devo dire good game sì comunque è bello sì in effetti sì dai dobbiamo arrivare a 6 così facciamo un altro draft ma intanto non penso di poter reggere sì un po' lento in effetti però complimenti per le rimozioni ma io non credo di averle mai viste neanche in due draft consecutivi tutte quelle rimozioni oh questa è discreta c'è un drop praticamente in tutte le curve quasi no in tutte le curve perché questo è convoc bello lo posso fare ma non lo voglio fare perché vorrei fare quello competitivo con 1500 per il discorso che facevo all'inizio cosa vorrei vedere in magic che è tipico di altri giochi in che senso c'è qualche meccanica tipo beh intanto vorrei vedere un sistema di amicizie combattimento pvp tra amici un po' un po' meglio di quello che ho visto e che è stato annunciato di straforo è un po' macchinoso vabbè ovviamente è una beta e va bene mi piacerebbe anche vedere formati multiplayer chiaramente ma tu però forse intendi qualcosa non proprio di di magic giusto sì sì vabbè io sono sempre molto sono sempre molto pagato con le definizioni però era parecchio buone in effetti dunque 5 ok no credo di aver scurvato come penso che non farò mai in tutta la mia vita non credo di di poterlo rifare più stupenda stupenda mano veramente bravi tutti noi che abbiamo costruito questo mazzetto e allora devo dire che per esempio sarebbe carino un formato in cui le terre sono in un mazzo separato rispetto a alle altre carte e ogni turno peschi una carta da un mazzo e una carta dall'altro ovviamente sarebbe da sistemare sarebbero da sistemare le le carte che prendono come target le terre insomma ci sarebbe un sacco di 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 casini chiaramente però si eliminerebbe un po' questo grosso problema del del mana un mm hai sentito un doki doki oddio le zozze di doki doki all'interno di magic no questa non posso tenerla va bene che vi devo di altri giochi di carte per esempio c'è un gioco che si chiama eternal e di cui su butai ti potrà parlare in maniera molto più informata di me perché io diciamo l'ho appena intravisto come gioco lì essendo quello un gioco nato in digitale non come magic che si appoggia alla sua incarnazione cartacee quindi alcune cose che chiaramente non possono essere implementate lì ci sono un sacco di di cose di di meccaniche che non potrebbero essere fattibili su un gioco di carte fisico ecco tutte queste cosette qua magari un po' più e faccio questo questo per strike 2 2 faccio questo tutte queste cose particolari del del mondo digitale capito per esempio c'è il nuovo gioco di 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 valve no credo di valve sì mamma mia questo mi fa un male cane parola artefact che praticamente sarebbe un lol a gioco di carte e tu puoi giocare contemporaneamente su tutte e tre le corsie del gioco allora come concetto in generale secondo me è carino a me non fa impazzire perché non mi fa impazzire proprio il tipo di gioco da cui è derivato però devo dire devo ammettere che quella è una bella trovata aspetta ci stavo anche fare il patro al prossimo turno però mi sa che mi son perso adesso vabbè tu mi entri tranquillo tanto non mi frega niente lo sta andando bene questa partita modalità tipo storia slade espire non so cos'è quindi non so se puoi descrivermela meglio questa modalità è bronzo 4 è un pippone però se c'è un mazzo che sta girando purtroppo li devo fare franciccio stupendo yuri la maestra dei coltelli no no mi ha mi ha fatto tanto male lui in questo in questo frangente ah è un deck big carino si guent l'ho provato però l'ho provato ovviamente da the witcher quindi se è uguale identico a quello di the witcher allora si non mi fa impazzire e guarda il mio problema però è un altro il mio problema è che attualmente sto giocando a magic sono concentrato su magic diciamo e giocare a un altro gioco di carte mi mi intripperebbe troppo sinceramente oh gli è uscito pure il mana rosso abbiamo finito abbiamo finito ora lo uso si ora lo uso per fargli fuori boh che gli faccio fuori questo mi ha un po' ho rotto le scatole col mentor ok aspetta che mobile è guarda niente io qua sto sto poco installo ah è la versione un po' migliorata ecco quindi magari sarebbe anche carino dargli un'occhiata magari mi vedo qualche video perché qualche cosina era simpatica in effetti un gioco di carte tipo magic con qualcosa in più che è un'avventura che unisce le avventure testuali e li raccoglie e raccoglie gli artefatti per avere i potenziamenti ma dai ma che carino che vuol dire good game hai vinto mi stai dicendo che hai vinto ah già che scemo vabbè si mi stai dicendo che hai vinto comunque ah avventura che vince bello comunque si basa molto sulle combo eh devo vederlo hai già fatto vedere qualcuno dei tuoi mazzi di magic ho già fatto vedere qualcuno dei miei mazzi di magic tipo quelli che sto costruendo ultimamente no per ora no comunque le sto facendo parecchi nightmare la definizione propria deck building ok ah è tanto diverso vabbè io gli do un'occhiata per carità perché non è che allora avventure grafiche le sto portando intanto abbiamo preso 300 gem che non mi fanno schifo sinceramente quindi grazie grazie a tutti per l'ottimo lavoro il mazzo era carino il problema è che lo sto giocando io che ho una sfiga della madonna quindi e sto portando attualmente timbrewood park che è un'avventura grafica creata l'anno scorso ma dallo stesso creatore di monkey island in stile vecchia vecchia scuola è bellissima ti consiglio magari di andarti a vedere gli episodi precedenti perché credo che la settimana prossima lo completeremo cioè lo continueremo e poi ho intenzione finita quella di fare monkey island e indiana jones e fate of atlantis bellissimo oh tu mi dicevi i mazzi allora vi faccio vedere ah i mazzi quelli veri ah è vero è vero è vero dovevo farlo da tantissimo tempo monkey island già so cosa fare non ne sarei tanto sicuro perché non lo gioco da una quantità di anni veramente incredibile quindi però sì effettivamente non sarebbe una blind run proprio blind blind nel senso però ecco se vuoi una blind run del genere allora seguiti in beloved park perché è veramente bello tu pensi che sarebbe divertente se ci fossero le tre righe di guent bravo perché quella è una cosa che mi piaceva molto il fatto poi che si comportassero in modo diverso cioè chi attacca chi insomma tutte quelle cose è vero è vero quello sarebbe carino ma applicato a magic aspetta applicato a magic c'era ce n'era uno molto simile come meccaniche che aspetta qual era era il gioco di carte di might and magic è possibile c'è un gioco di carte di might and magic mi pare di sì e anche quello funzionava credo se non ricordo male a file o colonne che praticamente non potevi attaccare direttamente quello lì era bellissimo sì era veramente bello è vero vero quello me lo ricordo molto con molto affetto diciamo però credo che non ci sia più non si è più sopportato vero è quello che dico io might and magic duels of champions infatti aspettavo sì era veramente bello comunque come potete vedere sto facendo un po' di mazzi vediamo vi aggiorno sto facendo piano piano invasione di saprolingi un mazzo merfolk perché il metagame attuale praticamente è uno di quelli che va più forte quindi volevo esplorare questa cosa solo che mi mancano delle carte un grixis un po' diverso dal solito un muldrota però in singleton che credo sia divertentissimo un dimir singleton perché mi mancava ovviamente poi un boros sempre singleton e poi un sultai però ha fatto ha fatto alla darsh e questi due avevate già visti perché però li sto costruendo non credo che finirò mai di costruirli a questo punto perché perché non sto giocando molto gioco a pathfinder giocavo sì sì ah quindi ha chiuso sì no io credo di averlo mollato un po' prima che chiudesse però era veramente bello sì ti parla poco del fatto che tu giocatore sei un mago con il tuo grimorio sì beh sì ormai è una cosa talmente assimilata che giochi le carte e basta io gioco a pathfinder cioè giocavo a pathfinder sì ci ho fatto tantissime campagne se andate nel mio blog che è ovviamente darsh.it trovate nella sezione gdr tutti i resoconti di tutte le campagne che ho giocato in tutta la mia vita sono proprio dei libri da leggere quindi io non ve li consiglio perché sono veramente lunghi però lì c'è la mia vita giocorulistica se doveste interessarvi si potrebbe migliorare sì magari certo perché chiaramente magic in alcune cose è fisso sulle meccaniche che sono state concepite 20 anni fa che per l'epoca erano innovative quindi non a caso loro ogni espansione cercano di innovare di mettere qualcosa che cambia il problema è che lo lo snatureresti ormai magic è questo ragazzi non sono molto d'accordo sul migliorare magic con elementi moderni o elementi tanto stravolgenti capito sul tie alla dash sì lo vedrete lo vedrete forse se riesco a finirlo si complica inutilmente sì esatto anche secondo me quindi tu non credi che si potrebbe semplificare magic semplificarlo no in quel modo secondo me si complicherebbero le cose esatto sì sì sicuramente si è rinnovato appunto hanno aggiunto tantissime cose nuove però se ci fate caso l'hanno sempre fatto in un modo molto molto coerente con tutto il concetto che c'è alla base di magic non hanno mai secondo me non hanno quasi mai quasi mai pisciato fuori dalla tazza insomma non sono mai andati fuori fuori tema ragazzi io purtroppo non ho tempo di fare nient'altro quanti altri non lo so sinceramente non conosco tutti i giochi di carte però credo che siano una bella una bella i planeswalker sono una di quelle invenzioni belle secondo me che non stravolge granché se ci pensate non so mi faccio una partita lampo a qualcosa anzi mi faccio un'altra partita col sul thai intanto che parliamo e poi vado vado a letto perché domani devo svegliarmi un po' presto purtroppo lo so che è domenica ma purtroppo i doveri familiari incombono sì bravo io mi riferivo ai tribali però a quelle meccaniche esatto spinte sul tribale hanno si hanno molto allentato io ho un mazzo ma guarda te però però me la tengo perché sono un control d'altronde quindi che mi frega i tribali devo dire che però alcuni erano carini io stesso io stesso ho un un mazzo farabutti come come mazzo reale no questo è normale questo è un sul thai control classicissimo invece quello che stavo costruendo era un'alternativa no vabbè cioè io non c'ho parole basta cioè mi devi far chiudere la serata con con un mana flood non ci posso credere eh eh si infatti il bit buah ciao brasca eh il bit e blossom ce l'ho infatti ed è una cartona chiaramente io farei farei lui quindi tu dici non proprio il concetto di tribale ma alcune tipologie di 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 tribali quindi come proprio come come tipo che bello il bit e blossom andate a dormire prima noi mi sa vero mi sa no dai cioè no 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 vabbè intanto metto le terre poi si il tribale praticamente è un è un tipo che può essere assegnato a una carta e che ha molti trigger che possono essere attivati se lanci una pagina di quel tipo è un po' particolare immagini terra battle creature deboli che partono con meno 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 uno che si potenziano si guarda comunque si ci sono delle meccaniche davvero davvero originali io non faccio nulla praticamente in questa partita perché andiamo a letto fra due ore si esatti si prova a fare a scanta tanto che ci frega dai prova a fare a scanta intanto ce la cantererà si quella ce l'ho guarda stai descrivendo il mio mazzo spiritelli e farabutti no ve lo devo far vedere un giorno ragazzi assolutamente troppo divertente quel mazzo devo assolutamente farlo sto video in real life con i miei mazzetti due poi ce no ragazzi non è che ce n'ho chissà quanti in realtà uno è è divisibile in due è arrivato Ral ma io rimozioni cioè diverse da queste scemenze no vabbè lui chiaramente si è tenuto per un counter no non credo che possa counterarmi Vraska quindi 246 246 quindi lancio lei tranquillamente tappata ah però aspetta 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 c'ho Vraska mannaggia eh no mi sa che gli devo far fuori lui non mi non mi ricapita più una cosa del genere no non mi ricapita assolutamente più una cosa del genere leggo ah si 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 ok io si io ho sia bitter blossom che la spiritella barbetta magie quella a cui ti riferivi tu ovviamente nel mazzo contro feri e ovviamente lui se l'ha ripreso in mano vabbè adesso faccio bene allora facciamo così intanto ce l'ho tutto in mano 2 4 6 8 ce l'ho allora io provo a fargli fuori lui intanto e vediamo se me lo counter bravo e poi vado con l'avrasca oh per una volta allora non mi si è ritorto conto questo mana flood ragazzi perché perché insomma ho trovato un mazzo che anche lui non tira giù nulla sì sì certo sì sì assolutamente conta anche bitter blossom e quello è il bello e ce ne sono una marea no non me la tiro da solo dai ce ne sono una marea comunque vabbè che devo fare e muovo muoio lo tolgo dai non so con che ma prima o poi vai questo pesca a non finire meno come se non ci fosse un domani mi avete fatto bene voglio di farvi vedere i miei mazzi in real life magari in live vi faccio vedere io pesco terre comunque ragazzi state tranquilli tranquilli pesco terre bella ridling grazie mille della compagnia grazie di essere passato ci vediamo alla prossima ciao grazie a te lo faccio lo faccio sì prima o poi lo farò però cioè sì vi faccio vedere in real life in una live i mazzi e poi 10 minuti in quarto d'ora poi poi ne parliamo tutti quanti eccolo ma tanto me lo counter proprio così me lo counter sì è decisamente il mio gioco di carte preferito guarda non è che ne abbia provati così tanti da dire sì li conosco tutti quanti il magic è il migliore devo dire che incidentalmente è quello che gioco da appunto da 20 anni praticamente quindi non ho non ho avuto grandissima spinta a provarne in modo molto serio tanti altri capito perché come dicevo due giochi di carte così complessi e con così tante variabili contemporaneamente non mi fanno impazzire preferisco concentrarmi su uno anche perché non ho tempo ragazzi purtroppo magari 10 anni fa l'avrei fatto tranquillamente e l'ho fatto però adesso no perché non ho fatto perché non ho fatto chemis ma perché non ho fatto in sight vedi vedi che mi distraggo vedi che mi distraggo vabbè uno lo faccio no non ho fatto mai tornei seri no assolutamente ho sempre giocato con gli amici in modo casual chiaramente non conto come tornei seri i tornei che organizza il negozio sotto casa diciamo no non mi state disturbando perché vedi io sono contento a chiacchierare con voi sto qui apposta il problema è che poi mi distraggo purtroppo quindi no seri no tornei organizzati dalla fumetteria sotto casa ma quanti ne vuoi però non li reputo seri cosa ne pensi di avere un mazzo in più sul campo di battaglia che contenga solo evoluzioni dei mostri che evochi evoluzioni dei mostri che evochi non mi fa impazzire mi sembra una cosa da da pokemon sinceramente non lo vedo adatto a magic da cui si possa attingere una volta che riesci a mettere in campo quel dato mostro ma non lo so si lo so in senso negativo ah già sono seri quelli e addirittura 5 danni così e va bene mi fai pescare va bene mi fai pescare e io scarto cioè mi fai pescare io scarto questa scarto questa no non volevo scartare mannaggia ho sbagliato ho sbagliato aspetta aspetta i tornei si non ci sto capendo niente comunque ovviamente no non non la vedo una cosa adatta a magic francamente o comunque ragazzi mi avete se avete riuscito a farmi scartare assassin's trophy perché volevo castarlo chiaramente ti vuoi istantaneo invece dovevo chiaramente nel frattempo scegliere le carte da scartare ed è perso per sempre adesso al posto del mana per farli evolvere utilizzi altro comunque io veramente magic ha un sacco di formati strani e divertenti e anche multiplayer io spero intanto intanto spero che mettano quelli tipo appunto i vari tu hai the giant il commander ma perché il commander in magic arena non sarebbe una figata sarebbe una figata secondo me è un formato nel formato praticamente c'è arrivato un simpatico counter anche a noi e che faccio devo scartare allora faccio questo piuttosto che scartare lo so lo so che non è standard però che ne so stavo stavo dicendo sarebbe figo avere i formati carini allora terra questo e questo vai madonna sta partita non è lunga voglio andare a letto ma perché ho iniziato mannaggia ho pure scartato un coso ma come si fa sto proprio dormendo vai voi mi state proprio state proprio ignorando il gioco giustamente perché chiaramente buongiorno tu vorresti davvero fare lui surveil questo mi piace e te lo faccio subito subito teleway teleway tre danni shivan fire madonna ma questa ha solo cose ma scusate ma come 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 fa che cacchio io li tolgo no voglio andare voglio andare a letto ragazzi aiuto è un teferi si e vabbè ma vi offendete se la perdo per mancanza di voglia di continuarla no dai pure un sincopetto ho preso che cosa assurda no basta counter non ce la faccio più no mi volete bene lo stesso l'unica cosa di diversa da magic è che magic ha il mana yugio è un po' più immediato ok e mi fai dei danni va bene e quel cos'è addirittura voi parlate intanto di yugio vero non conosco yugio quasi per niente sinceramente però non mi ha mai attirato ho di nuovo un coso qui tappet creature non me ne frega niente questo me ne frega tanto porca miseria però no non finirà mai sta partita ragazzi mi sa che finisce per fine carte finisce prima lui comunque avete notato che boom della miseria c'è stato su twitch per quanto riguarda le live di magic ma una cosa bestiale io non me lo non mi aspettavo così tanto sinceramente è normale chiaramente perché è uscito dalla beta è normale che la gente ci si butti un pochino ma a questi livelli no esatto brutte partite sono brutte partite queste ragazzi comunque lui ha finito i counter mi sa lui ha solo rimozioni quindi spero di poter far qualcosa un bane fire mi fai addirittura io ti faccio un syncope da uno giusto no non ha nulla no non è che mi sbaglio ah no è vero non può essere canterato che sto dicendo ah no no a posto si 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 avete ragione quindi era quello il tutto il bane fire era un mazzo costruito intorno al bane fire come il mio è costruito intorno a brasca e compagnia va bene ok allora ragazzetti io vi ringrazio tantissimo della compagnia spero di che vi siate divertiti un minimo ho cercato in tutti i modi di interagire con voi però vi ripeto non è cattiveria ma ci sono dei momenti di di gioco molto concitato e concentrato in cui non riesco a leggervi perché se no mi mandate in confusione sono vecchietto mi dispiace ringrazio tutti ringrazio chi ha subato grazie al signor gufo per la sub ancora grazie mille davvero si è apprezzatissimo domani ci vediamo per eye of the beholder la settimana prossima inizia la rubrica dedicata a red dead non ce la faccio a dirlo questo nome red dead redemption 2 quindi un'oretta un'oretta nel west con darci la sera così a caso a sorpresa spero di fare anche timberweed park quindi sky nightmare se ci sei magari se ti interessa vieni perché è diventante red neck redemption si esatto e e poi che altro e niente poi le solite rubriche fisse del weekend grazie ai miei moderatori che hanno fatto un ottimo lavoro intimidendo e minacciando timberweed park si credo credo che potrei farlo o giovedì o mercoledì non lo so però ecco vi ricordo che potete seguire il mio server discord per qualsiasi novità e soprattutto per gli aggiornamenti e gli annunci se sì io lo so lo so ti ho nominato apposta va bene grazie a tutti ragazzi un salutone e buonanotte grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti